Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il re della registra Cancelletto 1, farò la recensione di un film del 1965, Il Bandito delle Undici. Ferdinand e Marianne si ritrovano dopo 5 anni durante i quali lei è stata in una banda di criminali, abbandonati moglie e figli e sbarazzatosi di un cadavere, Ferdinand fugge con Marianne e la segue nella banda. Il mio voto a questo film è 7, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scende del film, l'interpretazione e la sceneggiatura, Edigenere giallo, la durata è 1 ore e 50 minuti, il regista è Jean-Luc Godard, la regia è buona, bravo regista, l'attore è Jean-Paul Belmondo, bravo attore, nel film anche Anna Carina, Raoul Coutard, Graziella Galvani, Samuel Fuhler, Principessa Aice Abedi, Alexis Poliakov, Vivian Blassel, Rita Savagnone, Jean-Pierre Leavoud, saluto Anna, Samobrina, Citta, Aliciotola, Marcolf, Il Trio Medusa, Michele Tregigliani, Favijay, Picchiatore, Bulluni, Van Drago, MrBikeTV, Festival, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci e al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.